Buongiorno a tutti, benvenuti a ognuno di noi. Rimaniamo per un attimo senza fare, senza scrivere, senza smanettare il computer, il telefono, fermi nell'istante, con questa attenzione presente che non cerca niente, con questo attenzione, con questo attenzione di essere vivi in questo istante, attenzione, che voi vivi in questo attenzione, adesso, che quando siamo fermi in questo adesso sentiamo che siamo vivi, e questo è essere uniti con la vita, e questo significa essere uniti con la vita, essere uniti con la vita, sentiamo la vita in noi e contemporaneamente siamo nella vita, e noi sentiamo la vita in questo attenzione, percepiamo il corpo, ощущiamo il corpo, appoggiamo la nostra attenzione, questa attenzione che non cerca niente, che non vuole niente, e non vuole niente, che non vuole niente, che non vuole niente, ma è un'attenzione che sa, ma è un'attenzione che sa, è un'attenzione che riconosce, E la consapevolezza E la consapevolezza E non c'è bisogno di aspettarsi delle conferme E raggiungere uno stato particolare E non c'è bisogno di aspettarsi delle conferme E raggiungere uno stato particolare Siamo vivi ora Semplicemente questo E la coscienza di essere vivi adesso Porta una parte della mente E la consapevolezza E la consapevolezza Se nelle mie parole Riconoscete Un senso Se nelle mie parole riconoscete qualcosa Che conoscete Semplicemente Rimanendo attenti Con l'attenzione appoggiata nel corpo Il corpo E il mezzo attraverso il quale facciamo la pace E con tutto quello che c'è Niente da comprendere Niente da comprendere Niente da comprendere Essere Che sente il corpo Che sente il corpo Che sente il corpo Tutto ciò con cui è importante fare la pace E il corpo E il corpo che ce lo mostra E il corpo è lo scenario in cui avviene questa pace Voi tutti avete ascoltato la frase Stare con quello che c'è Che vuol dire stare con quello che c'è? Che vuol dire stare con quello che c'è? Significa la semplice Il semplice riconoscimento Che stiamo vivendo Quello che stiamo vivendo E senza stare con quello che c'è Non possiamo essere presenti E quando non ci siamo Non possiamo essere presenti L'avete sentito molte volte Stare con quello che c'è Non significa amare quello che c'è Non significa amare quello che c'è Significa semplicemente il buon senso Di riconoscere Che adesso mi tocca vivere questo E ognuno di noi Tocca vivere qualcosa E ognuno di noi Tocca vivere qualcosa Guardate quello che vi tocca vivere in questo momento Qualcuno è malato Qualcuno è malato Qualcuno vive una situazione di guerra Qualcuno ha perso il lavoro Ognuno è malato Qualcuno è malato Qualcuno è malato E spaventato E chi si è malato 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 Qualcuno vive una situazione di dolore Di perdita Ognuno di noi Qualcuno dice Il sorriso Ogni uno di noi E chi si è malato C'è che c'è. Posso stare con quello che c'è adesso? Oppure aspettiamo di guarire da una malattia per poter stare con quello che c'è? Oppure aspettiamo che la guerra finisca per stare con quello che c'è? Stare con quello che c'è significa stare con quello che c'è adesso, senza eccezioni. Altrimenti aspetteremo di vivere, quando ciò che c'è e che non ci piace, avrà smesso di esserci. Vivere una malattia, vivere una difficoltà, vivere la guerra, пережivare болi, пережivare трудности, пережivare войну. Cosa vuol dire? Что это значит? Vuol dire sentire quello che c'è. Non ha a che vedere con la vera opinione con quello che c'è. Ha solo a che vedere col sentire. una malattia che fa sentire la tua storia. Perché ogni malattia ci porta su la nostra storia. la nostra memoria, il nostro corpo di dolore, l'accumulo della vecchia sofferenza che abbiamo dentro, ci mette di fronte a una densità che abbiamo accumulato dentro negli anni e che adesso vuole essere guarita. Perché ogni malattia è un movimento verso la guarigione. Perché ogni malattia è un movimento verso la guarigione. E la guerra non è diversa. E la guerra non è un movimento verso la pace, verso la guarigione. qualche anno fa, quando i cinesi hanno invaso il Tibet, ho letto un libro di un maestro buddista. e mi ha sorpreso quello che scriveva. Lui diceva che questa invasione non era semplicemente l'accione di un popolo che non aveva invaso un altro. ma che il popolo del Tibet e soprattutto i buddhisti erano parte di questa invasione. e citava la storia di avvenimenti del Tibet e chiedeva di prendere responsabilità personale. di quell'attacco, di quell'abuso. perché siamo responsabili di tutto quello che accade. ma non nel senso della colpa. non nel senso della colpa. non nel senso della colpa. guardate la malattia, tutti noi abbiamo fatto l'esperienza della malattia. la malattia manifesta un accumulo di sofferenza che viene dal nostro passato, da ciò che abbiamo ereditato. quando il corpo ha accumulato molta sofferenza dentro, se la scuote di dosso e lo fa attraverso una malattia. un movimento verso la guarigione. un movimento verso l'armonia, lì dove era nata la disarmonia. e così questo maestro buddista umilmente riconosceva nella storia dei buddhisti gli avvenimenti che avevano portato la Cina a invasare il Tibet. perché tutto quello che noi abbiamo dentro si riflette fuori, sempre. tutto quello che portiamo dentro e con il quale non facciamo la pace, si manifesta fuori. tutto quello che abbiamo dentro e con il quale non facciamo la pace, si manifesta fuori. allora, una situazione di guerra chiede a gran voce di fare la pace con tutto quello che c'è dentro ognuno di noi. perché non ci sia più una vibrazione di guerra che emani dalla mia persona. perché io diventi un punto che emette solamente pace. perché io possa vivere la pace in questo momento in cui tutto intorno a me c'è guerra. allora, come si fa questa pace? quando noi diciamo no a quello che c'è e non vogliamo sentirlo, creiamo la guerra dentro. allora, sentendo in questo momento possiamo farlo insieme, sentendo tutto quello che è in lotta dentro di noi, sentendolo nel corpo, perché è il corpo che lo sente. sentendolo nel corpo. con questa attenzione presente, con questa attenzione presente, con questa attenzione che accoglie ciò che è. lì accade qualcosa che molti di voi hanno anche spontaneamente sperimentato. perché tutto questo non è tecnica. perché tutto questo non è tecnica. e tutti voi sicuramente avete sperimentato in un momento in cui c'era una guerra interiore per un qualunque motivo, avete sperimentato come sentendolo, standoci, a un certo punto qualcosa si espande, si allarga. e lì si apre uno spazio più grande. lì dove c'era la contrazione, arriva l'espansione. lì dove c'era la confusione, arriva la chiarezza. lì dove c'era la confusione, arriva la chiarezza. lì dove c'era la confusione. lì dove c'era la confusione. lì dove c'era la confusione. di lotta interiore, qualcosa si allarga nel corpo e senti un'espansione. lì dove c'era la confusione. lì. lì dove c'era la confusione. quando c'era il confusione. lì dove c'era la confusione. lì dove c'era la confusione. e allora capisci la gratitudine e allora capisci la gratitudine la gratitudine per ogni cosa che vivi e lì ricevi il dono della fiducia dalla gratitudine nasce la fiducia e allora qualunque sia la situazione in cui ci troviamo in questo momento qualunque difficoltà stiamo attraversando e in questo momento il pianeta è pieno di difficoltà per gli esseri umani lasciamoci sentire la guerra interiore lasciamoci sentire quei luoghi in cui non c'è pace lasciamoci sentire la paura, il risentimento la ribellione, la ribellione, il senso di ingiustizia e lì non ci sono solo gli avvenimenti presenti lì c'è tutta la nostra storia quante guerre ha attraversato il genere umano quanta violenza ha vissuto quanta disperazione, quanta fame queste memorie sono ancora dentro di noi quanti di noi siamo dovuti scappare per salvarci la vita quante volte è successo nei secoli quanta memoria è ancora dentro di noi quelle memorie le abbiamo ancora dentro di noi quante volte siamo stati oppressi quante volte siamo stati oppressi impregionati, inviolentati anche se non è successo personalmente a te quella memoria è ancora dentro di te e il corpo di dolore dell'umanità e tutto quello che sta accadendo nel pianeta in questo momento lo sta portando a galla quindi tutti gli avvenimenti che tu stai vivendo in questo momento non riguardano soltanto gli avvenimenti di questo momento riguardano anche tutta la storia che c'è registrata nelle nostre cellule tutto ciò che è accaduto tutto ciò che l'umanità ha attraversato qualcosa che ho dentro anche io e con la quale posso fare la pace e la pace si fa attraverso il corpo e la pace si fa attraverso il corpo e la pace si fa attraverso il corpo non possiamo aspettare di vivere quando saremo guariti quando la guerra sarà finita e adesso la vita che ho posso fare la pace con quello che mi tocca vivere per poter vivere adesso è possibile essere grati anche della guerra perché accogliendo tutta la sofferenza che la guerra mi obbliga a vedere, a vivere sto anche diventando un essere umano compassionevole sto anche diventando un essere umano che non si separa da nessun altro essere umano e questo perché non affronta gli avvenimenti non vive quello che c'è dalle opinioni perché non preoccupa ciò che c'è через pensi dai ragionamenti через рассуждения dalle colpe через vino dal giusto dallo sbagliato через dilenio на правильное e ошибочное però vive accogliendolo sentendolo проживая e to принимая ощущая possiamo fare la pace con ogni guerra interiore che abbiamo in questo momento in questo momento ci tocca vivere примiririrsi s'lubo e vaino che ощущiamo внутри себя s'lubo e vaino che ci tocca vivere tutti questi avvenimenti che stanno sconvolgendo il pianeta sono un aiuto la mente che dice giusto sbagliato la mente che crede nella colpa non capirà questo ma c'è una mente in noi che lo comprende profondamente ed è la mente illuminata tutti noi abbiamo cercato l'illuminazione abbiamo cercato una consapevolezza più alta e come tutti i maestri ci hanno sempre indicato l'illuminazione l'abbiamo già ma tutti i maestri ci hanno indicato che il pubblico abbiamo già la consapevolezza che cerchiamo l'abbiamo già c'è una parte della nostra mente che è già illuminata l'uoi sempre stata è quella mente che sa è quella mente che riconosce razum che sente e sa che чувствuette e знает vi ricordate quella storia zen nella quale un discepolo chiede al maestro maestro cos'è lo zen e il maestro risponde entra nello zen dal suono dell'acqua e il maestro отвечает vai di vzen через звuc ruccia ecco cosa vuol dire questo che è un insegnamento fondamentale è base l'uomo la mente illuminata che tutti abbiamo tutti abbiamo la mente non nata e quindi la mente che non muore a следовательно razum который non umirai sa che un suono corrisponde all'acqua знает что этот звук относится к воде non la imparato lo riconosce e un altro corrisponde a un uccello a a другой звuc принадлежit ptice la mente illuminata è quella che sa rassvetlione razum тот который знает sa di queste cose semplici знает все это простое il suono dell'acqua звук воды una voce голос la mente illuminata ciò che già siamo ciò che abbiamo cercato ma che è già qui la mente illuminata riconosce ascolt e sa riconosce la guerra interiore e la colli senza fare perché non è un fare non c'è niente da fare per fare la pace dentro sentire quella rigidezza quella chiusura che è la guerra perché la guerra esterna non diventi una guerra interiore e ci renda pazzi e non ci renda inconsapevoli dimentici di questa mente illuminata che siamo non neososnani e non 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 ci renderemo conto che la guerra è stata un dono la guerra esterna è stata un dono e alla mente razionale questo sembra la folle ma la mente illuminata riconosce ma prosvetlionale razum призnaet sa la verità non 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 aspettiamo di vivere non aspettiamo per vivere che la guerra sia finita non non aspettiamo per vivere di essere sanati che la malattia sia finita non 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 accettiamo la quando accettiamo la malattia accettiamo adesso Facciamo adesso la pace con ciò che c'è e allora sentiremo la gratitudine per ogni cosa e comprenderemo che ogni cosa, ogni cosa è un aiuto in ogni cosa che accade, è la vita che ci sta prendendo in braccio e la vita che ci prende in braccio e ci dice, riconosci che sei già luce vivi la vita che sei adesso e non puoi sentire la vita se c'è la guerra dentro se hai lasciato che la guerra fuori sia diventata la guerra dentro allora guariamo insieme tutti adesso accogliendo quello che ci tocca accogliere, quello che ci tocca vivere come possiamo e allora sentiremo la fiducia e allora guarderemo tutto ciò che ci tocca vivere con uno sguardo nuovo e allora siamo liberi ma forse è meglio dire e allora siamo liberi ma sperimenti perché lo siamo già perché lo siamo già perché lo siamo già perché lo siamo già yellow Questo è il cammino spirituale e quello che ti porta verso la pace con qualunque cosa tu stia vivendo. Per questo un insegnamento spirituale è così importante nel momento che la razza umana sta attraversando. Ed è questo il dono di questi avvenimenti. E in questo è il dono di questi avvenimenti. Abitate il corpo. Жivite il corpo con la vostra attenzione. Rimanete in uno stato di ascolto che non cerca cosa deve ascoltare. E in uno stato di ascolto puro. Non cerca. È stato di ascolto. E in uno stato di ascolto. Vediamo se ci sono domande. Qualcuno ha chiesto qual è la differenza tra meditazione e concentrazione. Sono due cose diverse. E come si passa da un'abitudine a concentrarsi alla meditazione? La concentrazione è della mente passato-futuro. Concentrazione è una cosa utile quando dobbiamo fare qualcosa e quindi cerchiamo un risultato. Ma appartiene a quella parte della mente che vuole risultati. Concentrazione appartiene a quella parte della mente che vuole risultati. E se state attenti vi renderete conto che quando siete concentrati cercando un risultato la percezione del corpo non esiste. E allora si esce dalla concentrazione e si entra nella meditazione quando includiamo il corpo. La tensione è appoggiata nel corpo. La tensione è appoggiata nel corpo. E sei. Sei presente. Non cerchi qualcosa. Non cerchi qualcosa. Stai. E sei. per questo abbiamo creato le microprattiche ne puoi parlare direttamente tu quindi abbiamo creato lo che in italiano si chiama microprattiche ma russi la strada di vita dove sono molto piccoli che prendono una minuta e spostano a questo modo attraverso la concentrazione alla meditazione L'abitudine a scendere Uscire da questo trono, in cui ci sembra di dominare il mondo E scendere Allora, a questo proposito Davide chiede Il vivere in uno stato di presenza influisce sulla realtà esterna Davide, se hai ascoltato la mia spiegazione sulla meditazione e la concentrazione Ti renderai conto che quello che proponi è avere un obiettivo Allora, sto presente in maniera tale che posso Che posso cambiare la realtà esterna, ragazzi Vogliamo, vogliamo Quella è la mente razionale Quella è l'idea di chi sono Quello è volere qualcosa che non c'è Ricordate la frase Stare con quello che c'è E se il corpo è dolorante, come si fa a stare nel corpo presente con il dolore, Alessandra? Il dolore è un meraviglioso maestro E una sensazione forte E una sensazione forte E una sensazione forte E una sensazione forte Possiamo stare con quello che c'è E che cosa significa in questo caso Significa l'attenzione, guarda e dolore sta in quella sensazione fisica forte Mentre magari la mente dice è troppo, è troppo forte ho paura, che cosa mi succederà? E um, может быть, в тот же momento говорит, è troppo, è troppo, è troppo forte io bemmo di quello che può succedere Resti attenta nel punto, proprio nel centro di quel dolore e ci stai, e lo ascolti, e lo senti E tu stai, e lo ascolti, e lo senti E tu senti, e tu senti, e tu senti Senza volere che passi Perché non appena vuoi che passi la mente che ho nel corpo fa scartare la mia mente verso il terrore della ricaduta nella malattia oncologica avuta qualche anno fa L'attenzione non riesce a fermarsi nel corpo per le sensazioni troppo intense La pace è solo negli istanti di svuotamento quando non ce la faccio più neanche ad avere paura Francesca пишet Grazie Francesca Grazie Francesca La paura è l'emozione che ci spinge verso il futuro Nel momento in cui senti quel dolore sei viva Ma la paura ti porta verso un momento futuro In cui potresti essere morta In cui la sofferenza potrebbe diventare più grande E allora usciamo nel presente E questo non ha solo a che vedere con la malattia Questo ha a che vedere con qualunque esperienza intensa E allora la paura ci porta fuori dal presente E per dire no alla paura diciamo no proprio come dici Francesca diciamo no alla sensazione fisica che è presente invece E invece di dire no alla paura noi diciamo no proprio come dici Francesca diciamo no alla sensazione fisica e invece di dire no alla paura che hanno fatto che hanno vissuto esperienze simili alle tue hanno raccontato come stare nel dolore apre una dimensione diversa Mnoghi ludzie che пережivali neчто podobne di quello che переживаешь говорили che il risultato nel corpo ha ottenuto un'altra dimensione Il dolore fisico anche la paura intensa è un dolore fisico è una sensazione così forte che chiede aiuto che vuole essere accolta che vuole essere accolta su quel dolore non dovrebbe essere così non dovrei soffrire in questo modo non dovrei non dovrebbe e allora tutto questo fa aumentare la sensazione fisica e lo manifesta in un tentativo di armonizzarsi e il dolore ti richiama in quel luogo, ti fa vedere, ti fa accogliere, si porge perché tu lo accolga, perché tu veramente lo prenda in braccio quel dolore, perché c'è un bambino che piange in quel dolore, c'è qualcosa che vuole essere accolto proprio come un bambino che piange, allora allenati, quando non c'è dolore, a avere l'attenzione nel corpo a stare nelle sensazioni del corpo, a stare e rimanere in quelle sensazioni senza saltare fuori, e quando salti fuori, non ti giudicare per farlo, sì, la pace c'è sempre, Francesca ma quella parte della mente, da cui guardi il dolore con paura, non la vede la pace crede che la pace ci possa essere solo a certe condizioni si il dolore non c'è, allora ci può essere la pace il dolore non c'è, allora ci può essere la pace e la guerra non c'è, allora ci può essere la pace quindi allenati a appoggiarti su quella parte della mente che riconosce il suono dell'acqua perché quella parte della mente è capace di stare con una sensazione fisica intensa non chiamarla dolore, chiamala sensazione fisica e non chiamala sensazione fisica perché è diverso perché è diverso è diverso sentite la parola dolore ощutite la parola dolore oppure le sensazione intensa e come guardate una sensazione intensa e come state in una sensazione intensa sapendo che è qualcosa che si muove verso la guarigione, verso la liberazione sì e questo esatto lo si è questo lo si Porta tutto ciò che è importante accogliere. Ono показывает tutto ciò che è importante accogliere. Lo porta su perché tutto ciò che il corpo porta su come intensità sono i tronchi, le pietre che un fiume in piena attraversa e che ostacolano il suo fluire. Noi siamo vita, la vita fluisce in noi. Tutta la sofferenza che abbiamo accumulato personalmente o ereditato ostacola quella vita. Il corpo ce la mostra. Sì, Mariana, parliamo di qualcosa che offriamo? Sì. 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 Praticate. Praticate. Praticuiti. Praticate. Per gli italiani c'è un programma che si chiama I quattro diamanti della presenza che comincia la settimana prossima che proprio ti porta passo passo giorno per giorno con una pratica specifica ti porta veramente ad essere capace di lasciare la mente che cerca di dirigere. non vi limitate a leggere a leggere perché comunque è solo per gli italiani. non vi limitate a leggere o guardare video è la pratica quella che fa la differenza. è la pratica che cambia le cose e questa è l'intensità delle cose che tutti noi stiamo vivendo in forme diverse ci chiede di essere di praticare con una responsabilità. perché la mia guarigione, la mia pace interiore diventi la pace interiore che offro al mondo. E questo tutti noi qualunque cosa stiamo vivendo in questo momento nella vita sia la guerra che la malattia che sofferenza in qualunque forma sia ognuno di noi è chiamato a regalarlo a se stesso per poterlo donare al mondo. Quando facciamo la pace, quando facciamo la pace. non perché diciamo parole di pace o abbiamo idee di pace ma perché la viviamo, la pace? perché noi viviamo nel mondo e Davide aveva chiesto che relazione c'è tra l'amore e la meditazione Davide spiegò come si tratta di meditazione a l'amore quando facciamo la pace dentro di noi siamo in uno stato d'amore siamo uniti a noi stessi e nell'essere uniti a noi stessi siamo uniti alla vita siamo uniti agli altri e questa è la meditazione non è sedersi sul cuscino in una stanza asettica e essere nel dolore essere nella sofferenza essere nella paura e fare la pace con quello questa è la meditazione e gli avvenimenti attuali ci stanno regalando a piene mani la possibilità di meditare in questo e allora non solo la fiducia ma anche la vita emerge da ognuno di noi e allora la paura impallidisce perché quando siamo vita sappiamo la nostra mente originale sa che in una maniera o nell'altra saremo sempre nella vita che questa forma potrà anche andare ma la vita ciò che sono in realtà vivrà per sempre e allora che abbracciamo la vita in tutte le sue manifestazioni con tutte le sue difficoltà sovsemme trudnosti spesiba grazie siamo insieme noi вместе questi passi li stiamo facendo tutti insieme siatene consapevoli non ci sono confini tra gli esseri umani i confini sono solo in una parte della mente stiamo facendo questo cammino insieme per questo qui ci sono ucraini russi italiani e chiunque altro voglia aggiungersi per sentire che non abbiamo frontiere e per sentire che non c'è differenza nelle difficoltà che viviamo che ci sono che factsano che non c'è non c'è che ci sono russi che ci sono Grazie a tutti.